Ma a me piacciono le mappe brutte, che ci devo fare? A me piace, a me piace Olympus, questa mappa mi piace pure, a me le mappe brutte piacciono evidentemente. Evidentemente le mappe che fanno cacchina a tutti a me piacciono. Questa fa schifo, questa è in giocata. Entrambe sono belle. Olympus è la mia prima mappa preferita, questa è la seconda. E qua, 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 ci buttiamo su di lui? Tu vorresti scappare ma... L'accelettrico... Mamma mia che bella Ash. Benvenuti nel canonico video di inizio stagione sulla nuova arma, in questo caso la carra SMG, con una piccola parentesi su un altro argomento, che ovviamente come avete letto dal titolo, quello dell'Ame Assist, me l'avete chiesto in tanti, sì, effettivamente è successo qualcosa ed è già stato risolto. Per spiegarla proprio velocemente, hanno cambiato il moltiplicatore dell'Ame Assist su console mettendolo al valore pari di quando giochi col pad su PC, cosa che tra l'altro puoi fare anche tu direttamente dalle impostazioni avanzate, cambiando questo preset dello stile compensazione bersaglio da predefinito a PC, ecco. Per le prime 30, 35, 40 ore di stagione è come se tutti avessero questa impostazione attiva in automatico senza attivarla. Risultato? In molti si sono accorti che sparavano peggio del normale, io non ci ho fatto troppo caso sinceramente, probabilmente ho anche sparato peggio, ecco, però ho spesso le giornate storte in cui smiro un pochetto, quindi ho detto, boh, sarà stata una giornata storta, ecco. Effettivamente però c'era stato questo bug, che tra l'altro secondo me non è neanche stato così grave, perché alla fine ha impattato tutti, cioè l'Ame Assist è stato nerfato per tutti, e secondo me se anche rendessero questa cosa fissa, se lo nerfassero per tutti, non sarebbe neanche un problema, cioè nel senso, l'importante è che tutti abbiano gli stessi mezzi, se lo nerfia tutti, non cambia niente. Però vabbè, giusto per info, io vi dico che c'è stato questo problema, se avete sparato peggio, se avevate smesso di giocare per questa cosa, sappiate che è stata risolta prontamente, cioè oddio prontamente. 30-35 ore, l'argomento principale di oggi però è la CAR SMG, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento perché ho visto tante opinioni contrastanti. Io sinceramente, come dirò poi anche nel video, la sto amando veramente nei fight da vicino, secondo me è un'arma molto simile al flatline, nel senso che è veramente forte quando spari senza mirare, probabilmente da media-lunga distanza ci sono armi migliori, cioè vedi la carabina, non ha senso utilizzare il carro in sostituzione della carabina, però come arma da scontro ravvicinato, secondo me è interessante, la sto giocando molto più che altro anche per variare, cioè è bello ogni tanto cambiare arma, sicuramente è un'arma valida, ecco questo voglio far intendere, probabilmente non è broken come ci aspettavamo, io mi aspettavo un rinculo, un pelo minore, mentre penso che il vault sia molto più controllabile, è comunque più controllabile di un R99, è un'arma carina, anche la meccanica dei colpi pesanti, leggeri, utilizzabili, in modo intercambiabile, fatemi sapere la vostra, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, perché ne usciranno un sacco sulla stagione 11, su tutte le cose da provare, e buona visione, guardate anche la descrizione, trovate Twitch live ogni sera alle 21, anche questa sera, Instagram, TikTok, shop di Amazon per vedere tutta la mia attrezzatura, buona visione. No, 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 non cadere, o ti trancio quelle gambe brutte che erai. Ma zambico, IP2020. Brava, brava, per il meme, in game. Triple TK8. Not bad at all, not bad at all, not bad at all. Hanno fiuso. Easy GG per il fight vinto. Ma sono due team però. 69-1? Coincidenze. In effetti sì, in effetti sì, coincidenze. No, 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 dammelo, ho i colpi, ho i colpi. Muovitevi, oh, che ti prega, pigliatevi la blu e venite. Si stanno canto prepotentemente. GG, ribò. Dov'è che hai questo? È il fuse sopra, craccato. Fuse sopra? Anche qua sotto mi pusciano, forse no, pusciano voi. Craccato il fight tantissimo. Qual pat è crack, qual pat è crack. Eh sì, god damn. Io ho rubato quello di ribo. Sto palesemente aiutando Stekach, quindi. Va bene, nessun aggressore è vivo, in effetti cazzo, l'abbiamo ucciso noi. Che colpi avevi per i car? Eh, sono pesanti. E questo, c'ho anche quello. Allora vai, 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 tieni, tieni. E io avevo only ledger. Dej, gente. Mi ha onorato, mi ha onoratissimo, mi ha onoratissimo. Mi ha onorato uno io? Nocato uno? Ho giunti un team qua sopra da me. E ricominci a piangere come un secchio d'acqua. Butti tutto nella bacca, mi saluti, sei una bacca che fa muu muu muu. Io inseguo la mia ascia. Che fa? Mu mu mu, senti la mu mu mu. Ma secondo me era il team mate suo. Non mi sparare o io sparo il tuo team mate. Va bene, va bene. L'hai voluto tu. Mi dispiace, team mate, sei stato ucciso per l'ingordigio del tono. Flash, 60 flash. Vabbè, è fatto, arrivo. Dov'è che è? Ah, ma sta là! Era sopra sopra, mi sa che andava via. Ma non stava qua? No. Dove? È andato via, secondo me. È sopra sopra. È da me, è da me. È sopra di me, sì. Sì, vediamo se anche lui è una vacca che fa muu. No, più che altro, secondo me ci muoio io, perché. No. L'avevo sopravvalutato. Nessuno con uno zaino bello. Qua da me c'era uno zaino... Ah, io ce l'ho bianco. Comunque il cardino, ma da vicino non c'è modo di dire che uno sia forte. Secondo me il Nipfire è tanto, tanto forte. Non so se quanto il Flatline, ma mi piace. E visto che io sparo un Nipfire da vicino. Prende questa Zip, forse? No, qua da me. Ah, beh, è sotto, sotto qua. Craccata, craccata, craccata. Ma che è questo? Ma scusse. Ma scusse. È one shot, è one shot. È one shot da me sotto, dovete venire sotto. Qua uno? Atterra uno, atterra uno. Grande. Lo hitto, giuro. Giuro. Nemico a terra. Non so dove l'altro, mi scala l'altro. Non mi farei scherzi con la Zip Lane. Non mi farei scherzi con la Zip Lane. Arriva un altro team, arriva un altro team. Tu non sei così patetico. Però, no, resta, 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 resta. Eh, stavo... Volevo farlo swap prima, ma vabbè. Ma sei sicuro che arriva un altro team? Eh, mi hanno sparato. Non mi hanno colpito, ma ho sentito palese. Facciamo così. Arrivano da là, arrivano da là. Pusciano, pusciano, pusciano. E vieni periti qua, vieni periti qua, vieni. Facciamogli un giro. E per questo lato è uguale all'altro, spero. Sì, sì, sì. Ok. Sono ancora qua loro. Sono un problema. Possiamo andare sopra. Come? Così. I sì, p sì. E qua, qua, qua. Ci buttiamo su di lui? Tu vorresti scappare, ma... Laccio elettrico! Mamma mia, che bella Ashe. Che bella Ashe. Qua, guarda lei. GG. Manca pipeline. Prima kill. E Rampart è morta, eh. Oh, zero batteria. Arriva, arrivata, arrivata. Grazie, stackerci. No, arrivo. No, 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 tranquillo, tranquillo. Altri? Hanno preso il megacannone orbitale. No? Sì? Sì, 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 se ne vanno. Se ne vanno o arrivano? No, se ne vanno. Ma scusa, quale persona sana di mente vede che abbiamo appena fightato, abbiamo appena finito di fightare e scappa? Perché? Vado. Vado. Fra. Fra. Andiamo per di qua. Attento, Enico. No, una barriera di uosso. Come faccio? Ma l'hanno baffata, no? Oddio, mi shotta. Oddio. Ho rischiato. Ho rischiato. Ho avuto paura. Ho avuto sinceramente paura. Vuoi il mio mock? No. Il mock 1x, intendi? No, ranger. No, non ranger. Su karma ce l'hai? Bruiser? Sì, bruiser. Su karma ce l'hai? Vabbè, sì, io ho il triple. Dammi, 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 dammi. Ti mollo l'1x, tanto? Facciamo la carità. E vabbè, cioè, nel senso. Sul triple take è un fiantino più importante. Facciamo la carità. La carità, salura. Zero morti qua, sempre a cascate. Sono morti tipo 20 persone. Tutte ora. Tutte ora? Tutte ora, ora, ora. Guarda, guarda. Aspetta, aspetta. Uno. Dieci. Ah! No, otto. Diecinico? Otto! Otto. Vai, 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 vai. Ma là? Là, 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 là. Qua dentro, qua dentro. Temico in lontananza. Uno c'è il triple. Wow. Hanno finito, hanno finito. Ehm, ho finito. Sì, no, non mi sono preso la kill di quello a terra, però. Eh, ma mi sa che non l'ho colpito. Ho sparato tutti i triple take around. Quanti, 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 quanti casse. Quanti e l'unico rimasto era un bloody con 60 di vita. Pensate, che triste sorte. Mi sa che sono tutti morti, provo a pingare, ma... Io penso che sia inutile. Vediamo. Sì. No, no, nada, nada. Che palla? Almeno quello a terra potevo prendermelo, però. Sei tu, la spina a polvere qui. Io no, io no anche c'è. Ho zero batterio, eh. Eh, benvenuto nel club. C'è una batteria a scudo? E tu ne zero? No. Ne ho tre. E allora? Dov'è l'uscita in ste case, per favore? Va bene che c'è l'uscita sotto. Ma mettete un'uscita anche sopra. Quando tenete queste perle, dove si esce dalle case? No, da quella casa non ci sta un'uscita di sopra. Perché non la metto? Non sono uscite di sotto. Che senso c'ha? Cioè, oddio, anch'io in casa mia, in effetti... Mi piace questa mappa. No, anch'io in effetti in casa mia, al primo piano, non ho un'uscita. Ce l'ho solo al piano terra. Quindi, da che pulpito, però. Ma in effetti no. In effetti ci... No, brava respawn. Non ha senso mettere luci dai piani superiori delle case. Cioè, tipo, le case di Capitol, perché hanno le porte in ogni piano? Nel senso, cioè, uno vive nella casa e mette 18 porte. Se la mette al primo piano, al secondo piano... Cioè, di porta uno ne basta. E sì, vabbè, però... No, vabbè, vabbè. Io sono per le case con una porta, massimo due. Hanno finito? Qua dentro sempre? No, non ha... Un altro team qua? Dove? Ma, brother, manco ti vedo o mi spari. Dai. Basta! Metti giù quel triple take, riponi le armi. E ci sono tutti i tre di team, perché ne sento uno anche a sinistra, quello là di Radius. Da qua, da qua, da qua. Armor blu, ci facciamo questi? Ce li facciamo in due secondi. Arriviamo là, piazza pulita in due minuti. No, due minuti. Dieci secondi massimo, massimo, guarda. Qua dietro? Craccato un altro? Anche il giibo è blu, craccato? Questi qua, tutti e tre blu. Tutti e tre blu. Eh, però abbiamo gli altri team. A parte che io ho l'ultimate in caso per scappare. Terra uno. Calma, calma, eh. Cioè, piano, nel senso. Se sei one shot, aspetta. E l'altro team, quello? No, 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 scherzo. È il terzo loro. Va bene, va bene. Preso manco uno di questi. Allora, c'è ancora un full team qua, un full team sopra. Come fa a vedermi? Come fa a vedermi? By the way, l'ho detto, dieci secondi, eh. Craberinho. Allora, voglio almeno fare i... Craber, ok. Voglio almeno fare i tre... Lascio il triple qua, vieni. Quanti colpi? Eh, vabbè, 120, tipo. Guarda, abbiamo la safe. C'è un high ground da prendere? Vi metto questo a caso? Pigliatelo. Qua c'è. Non mi piace molto sta safe, è brutta. Ma è tutta in low ground. Che schifo. Non ho mandato a 3 a 1, ma mi hanno l'ho girato. Quella casa in safe, ma non è in low totale. Ma al che vada andiamo alla casa. Pusciano tutte e tre. Pusciano tutte e tre. Ho hitato il cibo. No, c'è un po'. Buono. Il cibo era one, eh. Gli ho dato... Crackata anche lei. Era... Tutti e tre one, tutti e tre one. Uno appena ristato, due one shot. Letteralmente. Puoi usciare anche l'altro team? Sì, sì, lasciateli, lasciateli allora. Lasciateli fightare. Hitata anche l'iflame. Eh no. Il Rivo vuole le kill. Godo, 11. Godo. Spè, non ci sono. Non posso sparare da qua. Occhio, occhio, occhio. A terra. Siete tendenti all'imbarazzante. Veramente tendenti all'imbarazzante. Cosa non state facendo per prendervi queste kill? Uno è qua dietro, qua dietro, qua dietro. Forse ho baitato. Non lo so, mi pareva di sentire uno di qua. O sopra. Vi giuro, uno si fullava qua. Giuro. Trovo dietro. Dov'è il Krabber? No, voglio fare i 3K. Ok. Fatti, 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 ho confermato. No, non è vero, non li ho fatti. Fatemi dare un hit, 21. Devo fare il 21. E' qui sotto. Qui sotto dove? Ma è in safe? Era qua, era. No, si sta ammazzando. Si sta ammazzando. No. 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 Godo. Ma si può. Era qui, guarda. Ma come hai fatto? Come hai fatto? Ma stavo facendo tutto il giro, non lo so. Questo qua veramente si è ammazzato di Thermite. No, ho capito. Minchia, che posto spot hanno usato. Ma si può. Ma dai, di Thermite. Ma infatti io pensavo fosse dall'altra parte. L'ho fatto tutto il giro, pensavo fosse dall'altra parte. A parte che, figlio mio, va beh tutto. Ma perché ti ammazzi di Thermite? Ma provaci. Ma provaci. Provaci. Ma perché si ammazza di Thermite? Cosa ne sapeva? Magari stava 1v2. 1v1. Ma credi in te stesso. Credi in te stesso. Perché ti abbatti in questo modo? Ti faccio i 4K. Li vuoi? Te li faccio. Non stasera però. Questa era l'ultima. Domani. Domani 4K con Ash. Ragazzi, grazie per la visione. Un like per compassione. Cioè, è brutto non fare il badge dei danni per colpa di uno che si suicida con una Thermite. Cioè, vabbè che tanto poi punterò lo stesso a fare i 4K, quindi amen. Però, fa sempre erosicare. Iscrivetevi al canale, guardate la descrizione. Vi aspetto questa sera in live alle 21. Domani alle 18 su YouTube. Ciao, ciao.